Direttore, Made Expo 2013 è una grande manifestazione ricca di novità, soprattutto rivolta al progetto, al mondo del progetto, che in questo momento ha bisogno, come mondo della costruzione e come tanti altri settori, di trovare motivi per credere ancora nel futuro. Voi sarete presenti con l'associazione Aciai, quali sono le novità che presenterete quest'anno? La nostra fondazione opera, come sempre, nel cercare di comunicare quelli che sono i vantaggi che le soluzioni in acciaio portano oggi al mondo del progetto e della professione. Il nostro lavoro è quello di far sì che comunque gli architetti e gli ingegneri, poi in una fase di progetto esecutivo, abbiano a disposizione nuove tecnologie, nuovi materiali per seguire quelle che sono poi le idee progettuali e renderle alla fine dei prodotti realizzati, in base a tutti i nuovi criteri della sostenibilità, della sicurezza, le soluzioni in zona sismica, procedendo anche verso soluzioni industrializzate e anche in accordo con altri materiali da costruzione. Per noi il Made è un momento importante di confronto, di lavoro, in modo di creare un dialogo sempre più stretto tra quello che è il mondo della professione e quello che è poi la costruzione metallica, che è il nostro punto di riferimento principale.